buonasera nel frattempo sono tornato a casa ma domani si torna naturalmente a torino per la partita per questo big match volevo ringraziare innanzitutto tutti coloro che mi hanno fermato quest'oggi i selfie c'era come capita spesso ma mi fa piacere molto piacere che mi si dica che mi seguite sul sul canale è stata una bella scommessa per me qualche anno fa poco prima del comis ma l'anno un anno due prima del comito se non ricordo esattamente aprire questo canale devo dire che andare in giro per strada ed essere fermato e complimentato non solo per il lavoro diciamo per la mia professione quella di giornalista e quindi per il mio lavoro a mediaset ma anche ma anche e tantissimo per il canale che ho aperto è una bellissima soddisfazione poi voi sapete che ci sono modi diversi di agire nel senso che nel mio canale sono padrone di me stesso non ho direttori non ho vicedirettori non ho capi redattori non ho redattori ordinari nemmeno diciamo così sotto di me tra virgolette per far capire un po' insomma l'organigramma che c'è normalmente in una redazione in una redazione ho un direttore un vicedirettore un capo redattore centrale ho tutta una gerarchia da rispettare quando parlo in televisione naturalmente faccio domande nell'interesse della mia azienda e nell'interesse naturalmente di chi mi ascolta quando parlo sul mio canale parlo a chi decide di ascoltare di me questa versione perché ragazzi non esiste una versione vera e una versione falsa non c'è assolutamente da fare questa distinzione c'è una versione umana nel senso di gianni bazzarini stop e c'è la versione gianni bazzarini giornalista professionista che deve rispondere ad un'azienda e che non può prendere iniziative perché è vietato giustamente è vietato è giustamente vietato sono dipendente di un'azienda e quindi devo lavorare anche sulla base di progetti concordati di pianificazioni concordate qua sono me stesso sono io e posso esprimere ciò che ho deciso io senza sottoporlo al vaglio di nessun altro come è giusto che sia dall'altra parte senza sottoporlo al vaglio di nessun altro naturalmente restando sempre dentro i confini del buon senso del rispetto perché da parte mia non sentirete mai alzare la voce non sentirete mai insultare a qualcuno non sentirete mai mancare di rispetto ad una squadra che non sia la juventus a giocatori che non siano della juventus a dirigenti e quant'altro qua si cerca di essere sempre rispettosi ma giustamente di poter esprimere la propria opinione io qua sono opinionista nell'azienda presso la quale lavoro sono un redatta anzi per la verità la qualifica di vice capo servizio che risale a tanti tanti anni fa ma non sono un opinionista devo fare cronaca devo riferire devo fare domande eccetera ok quindi sono due aspetti diversi che possono perfettamente coesistere e devono perfettamente coesistere ma non mi si dica che da una parte sono vero e dall'altra parte sono falso no sono sempre vero ma sulla base del tipo di organizzazione che si dà alla propria vita e al proprio lavoro quindi al proprio aspetto umano e al proprio aspetto professionale sono due cose completamente diverse ve lo dico io ma ve lo dirà chiunque faccia questo tra virgolette doppio mestiere cioè professionista presso un'azienda e youtuber opinionista sul tubo ecco diciamo così opinionista sul tubo chiunque vi risponderà in questa maniera e guai guai andare a creare commissione tra le due cose o meglio o meglio è meglio fare il giornalista intanto che fa il youtuber nel senso di portare eventualmente le notizie se si hanno delle cose e difatti voi sapete che io non mi butto nelle notizie ma aspetto sempre di verificare anche nelle indiscrezioni aspetto comunque di verificare la situazione dopodiché ve ne parlo perché sarebbe bello e facile venire qua sparare a zero sul nome di mercato su situazioni di sfogliatoio eccetera per fare cosa per attirarsi like per attirarsi follower no non rientra assolutamente la mia modo di fare però non posso fare lo youtube se lavoro a mediaset vorrei che fosse chiara questa distinzione non posso perché è giusto che sia così è giusto che sia così l'azienda non è mia rispondo ai confronti di chi è sopra di me e quindi è questa la situazione come a volte sento dire perché a mediaset non dici queste cose qua o qua la no perché a me ci sono delle delle situazioni da rispettare professionalmente ed è giusto che sia così che non vuol dire mistificare la realtà o nascondere la realtà o esprime una realtà diversa da quella che è ci sono modi e modi ci sono modi e modi e la scelta degli argomenti non può essere mia o unicamente mia deve essere comunque concordato sottoposto al bagno quando vedete i miei servizi a sport mediaset per esempio mentre qua quando parlo qua la scelta è esclusivamente mia non mi dice niente nessuno mi dispiace di aver perso tutto questo tempo ma siccome molte volte mi si fa notare questo allora ci ho tenuto a fare questa precisazione detto questo allora sì aspettiamo domani per capire questa formazione qua anche se io sono sempre dell'idea che ero cateli non verrà rischiato posso sbagliarmi ma l'ho detto anche in televisione ecco questa è una cosa che qui si tratta di notizie o indiscrezione eccetera quindi quando si può inventare o dire una cosa da una parte è una cosa dall'altra assolutamente e poi volevo sottoporvi questa questo quesito interessante è una situazione che ha sollevato paolo di canio andandoci giù piatto ecco per esempio lì lui ha parlato a titolo personale non ha parlato a titolo di sky visto che lui lavora per sky ma quando dice che credo per lo meno che non abbia parlato a sky ho letto solamente le sue dichiarazioni non è intelligente tatticamente vlaumic quindi diciamo che l'ha toccata l'ha toccata piano poi se l'ha detto a sky si prende tutte le responsabilità di quello che ha detto e sia chiaro però dice che non è intelligente tatticamente e quindi sostanzialmente è un giocatore carente da questo punto di vista io non lo c'è allora è una questione diciamo così delicata perché perché si esprime un ex calciatore che ne sa sicuramente molto più di noi tutti messi assieme di calcio di quanto appunto ne sappiamo noi però è al tempo stesso un'affermazione molto tosta molto pesante quantomeno pur non volendo noi essere per lo meno parlo per me stesso talmente presuntosi da voler scavalcare o diciamo così screditare completamente l'opinione di chi ha giocato a calcio ci sentiamo eventualmente comunque di poter esprimere un'opinione a me non sembra poco intelligente tatticamente a me sembra che certi movimenti in area li faccia bene che certi smarcamenti li sappia ottenere poi può essere un po indietro tecnicamente ma questo ce lo stiamo dicendo da una vita ce lo stiamo dicendo da una vita e ogni tanto si vedono segnali di miglioramento a volte sembra tornare un po indietro io l'ho detta quella la mia opinione secondo me lui è troppo smaglioso di dover dimostrare qualcosa troppo smaglioso e la smaglia di dover dimostrare qualcosa è controproducente quando deve controllare un pallone sembra che si faccia mille domande e non ci va tranquillamente a controllare un pallone è della volta che magari sbaglia al controllo io questa e questa è l'opinione che mi sono fatto di dusan blavich è chiaro che è un aspetto sul quale si può e si deve lavorare ma dusan blavich in questo momento va fatto giocare le sensazioni stanno andando in questa direzione le sensazioni mi auguro per lui che domani scenda il campo dopo un minuto altrimenti ragazzi e qua entra l'altra parte del mio lavoro che quella prettamente giornalistica di saper cogliere determinate situazioni se blavich non parte dall'inizio anche domani il rischio qual è ditemelo voi che si crei un bel caso per un giocatore pagato così tanto che fino adesso da quando si è fatto male ha giocato 174 minuti e nelle ultime cinque partite è giocata da titolare una sola e si avvicina il mercato di gennaio non è più solo il gianni banzarini opinionista ma diventa gianni banzarini professionista che dovrà eventualmente occuparsi di un nuovo aspetto della stagione di dusan blavich iscrivetevi al canale ci vediamo domani ovviamente video nell'intervallo sarò allo stadio naturalmente e poi approfondimento su questo ma che ve lo dico ciao